Ok ragazzi, nuovo video, oggi vi parlerò del cardio in off-season Se avete seguito le nostre storie, avete visto che ci siamo presi una spin bike da tenere a casa che è probabilmente uno degli acquisti più intelligenti in questa fase di lockdown perché da una parte posso continuare ad allenare le gambe in qualche modo non che le faccia soltanto quella spin bike, ovviamente però all'interno delle sessioni, magari degli sprint su spin bike, magari in BFR, eccetera sono sicuramente uno stimolo aggiuntivo piuttosto che comprare per esempio una leg extension e carl che butterei sostanzialmente dopo il lockdown soprattutto però qua in Inghilterra, visto che il tempo non ci assiste è un modo per continuare a fare cardio durante la fase di off-season e logicamente in preparazione quando magari è un po' più presente e la spin bike è un macchinario che io personalmente odoro comunque detto questo, domanda principale che è sorta Ludo però, tu stai in off-season, quanto fai di cardio? come lo tieni? come lo gestisci? perché repudi che sia importante? benissimo, allora, prima di tutto, il cardio in off-season va tenuto? assolutamente sì, è un fattore molto molto importante bisogna vedere un po' quello che è, diciamo, lo stile di vita del soggetto, dell'atleta perché se ho una persona che ha un lavoro molto dispendioso in cui si muove molto, sta sempre a mille, ha un metabolismo tendenzialmente accelerato per esempio Alessandro, con Alessandro tendenzialmente non mi conviene spingere troppo sul cardio in off-season o non mi conviene tenerlo affatto perché tendenzialmente di suo c'è un metabolismo che sta a mille normalmente senza cardio viaggiamo sui 700-800 grammi di carbo in off-season per cui non è il caso di aggiungere un elemento di output però nella maggior parte dei casi è un discorso che vale la pena inserire ora, per diverse ragioni la prima ragione del cardio in off-season è quella del mantenimento della salute cardiovascolare quindi in palestra, in sala pesi, a meno che non lavoriamo sulle altissime ripetizioni la salute cardiovascolare non è logicamente incentivata, massimizzata e viceversa con il cardio possiamo andare a lavorarci e questo ci darà benefici anche nelle serie un po' più lunghe a ripetizioni più alte per esempio una serie da 30 sull'hack squat o sulla pressa ecco, avere una bella salute cardiovascolare ci permette di non distruggerci o cedere da un punto di vista di fiato che è una cosa veramente veramente sgradevole cioè non riuscire a respirare, cedere di fiato piuttosto che di gambe ora, questo è il primo beneficio in assoluto e non va assolutamente sottovalutato perché la salute cardiovascolare, soprattutto nel caso di atleti enhanced è veramente alla base di una longevità dell'atleta e della persona in generale il secondo vantaggio è un miglioramento del ritmo metabolico ossia, tendenzialmente aumentando l'output di lavoro avremo un metabolismo che va più veloce un metabolismo più veloce è anche un metabolismo generalmente più efficiente da un punto di vista di composizione corporea ma da un punto di vista proprio di velocità, di progressi perché tutti i metaboliti, tutto l'input in generale viene metabolizzato più velocemente così come tutti i processi anche di riparazione, di sutale, di sintesi proteica, eccetera sono tendenzialmente più veloci quindi è un vantaggio minimo sicuramente non è che andiamo a bruciarci anni di lavoro così in un attimo, in un lampo però vale la pena tenerlo in considerazione e proprio in funzione di questo andiamo a velocizzare i processi di assimilazione e di digestione digestione perché generalmente il cardio ci permette di digerire meglio per esempio stare più attivi, cercare di muoversi di più in generale è un qualcosa che velocizza la digestione che io utilizzo tanto in atleti che devono spingere tanto a livello calorico in fase di bulk perché normalmente i ragazzi stanno sulle 4000 calorie e passa in fase di bulk quindi logicamente devo tener presente che per l'apparato gastrointestinale non è una situazione sicuramente salutare quindi tutto quello che posso fare per migliorare e massimizzare la digestione vado a farlo quindi partendo dall'essere più attivi inserendo poi del cardio in seconda battuta in secondo luogo la capacità di assimilazione dei nutrienti nel senso che proprio il fatto di stare in movimento, consumare energie ci permette di assimilare meglio nutrienti e veicolarli all'interno del tessuto muscolare questo logicamente poi in combinazione con l'utilizzo di GDA che io normalmente faccio utilizzare in off-season però il discorso principale è che siamo più efficienti cioè quel che facciamo migliora generalmente siamo più efficienti cioè quel che facciamo ha un risultato migliore tutto quel che facciamo viene indirizzato verso un miglioramento e questo è l'ultimo beneficio che poi è una conseguenza del tutto un miglioramento della composizione corporea ossia a parità di surplus calorico in termini percentuali, in valore assoluto, quello che vi pare però a parità di surplus calorico essere più attivi e mangiare di più ci permette di avere migliori risultati rispetto all'essere meno attivi e mangiare di meno ossia il ragionamento in bulk devo cercare di stare quanto più lazy, quanto più tranquillo possibile e mangiare logicamente un po' di meno per non ingrassare non è esattamente l'ideale saremo molto più anabolici se ci muoviamo e stiamo un po' più attivi ora logicamente non deve diventare un eccesso come fare ore e ore di cardio al giorno assolutamente no deve essere quella minima aggiunta che ci permette di essere più attivi velocizza il tutto e ci rende una macchina generalmente più efficiente perché se siamo in surplus scordatevi il discorso che ci siano dei processi catabolici in atto meglio c'è sempre un rapporto anabolismo-catabolismo però andremo comunque a costruire anzi massimizzeremo la costruzione di tessuto muscolare logicamente il cardio ha anche un beneficio in termini di recupero ossia il tessuto viene ossigenato generalmente ma soprattutto poi il tessuto che va ad essere allenato con il cardio per esempio una speed bike, i quadricipiti, le gambe il tessuto dicevo viene ossigenato sta in uno stato più anabolico quindi massimizzeremo comunque i processi di recupero miglioreremo l'afflusso di sangue, il microcircolo eccetera eccetera quindi questo è un vantaggio importante perché massimizzando il recupero possiamo anche aumentare la frequenza di lavoro il recupero viene massimizzato sia da un punto di vista specifico perché facciamo attività sia logicamente anche per un miglioramento della digestione e dell'assimilazione dei nutrienti quindi sostanzialmente il cardio ha tantissimi tantissimi benefici e ve lo posso assicurare i ragazzi che tengono un output maggiore e che possono concretamente perché non tutti possono farlo logicamente per ragioni organizzative però che possono tenermi concretamente un output maggiore in off-season sono quelli che hanno anche i risultati migliori in termini proprio di sviluppo della massa muscolare quindi in termini di ipertrofia pura oltre che di composizione corporea ma soprattutto di ipertrofia ossia tendono a prendere proprio più muscolo grezzo alla fine della fase di off-season indipendentemente dal peso che mi mettono sulla bilancia per cui dobbiamo rispondere alle due domande principali detto questo ossia quale forma di cardio e quanto farne iniziamo col quale io personalmente credo che in off-season l'IT non sia esattamente una scelta idonea sì abbiamo più energie per poterlo fare però va a inficiare bene o male quelli che sono i nostri processi di recupero ossia non voglio avere troppa fatica sistemica e specifica sul muscolo ricordiamo che il cardio deve migliorare il recupero non andarla ad inficiare quindi se inizio a inserire delle sessioni HIIT magari anche piuttosto tassanti eccetera allora rischio di creare delle problematiche di inficiare il recupero che logicamente è già messo a dura prova per il fatto che ci allegniamo intensamente o almeno dovremmo in fase di off-season quindi dal mio punto di vista cardio-liss cardio-liss vuol dire un cardio tranquillo in fascia per esempio sulla bike devo arrivare a sudare nel giro di 5-10 minuti e le gambe quadricipiti sono in pump questo logicamente dopo 5 minuti ho già i quadricipiti belle cariche di sangue diciamo anche sulla camminata sul tappeto una pendenza 5 una velocità 6 pendenza 6 velocità 6-7 un qualcosa del genere quello che io normalmente faccio secondo il mio peso corporeo vi sto dicendo comunque generalmente dovreste arrivare a sudicchiare aumentare la frequenza cardiaca quindi non deve essere una passeggiata però allo stesso modo non deve andare ad inficiare i vostri processi di recupero oltre al cardio il mio consiglio è quello di lavorare anche su NEAT quindi generalmente su quelli che sono i passi io ho il contapassi semplicemente utilizzo questo e vado a monitorare i passi ovviamente me lo tolgo sia quando sto in palestra sia quando ovviamente vado a fare cardio perché il cardio è un qualcosa che va monitorato perché il NEAT logicamente è non correlato all'attività fisica diretta quindi sostanzialmente per quel che vi posso suggerire lavorate sull'IS quindi cardio se vogliamo in fascia o steady state e sul NEAT quindi il numero di passi giornalieri quanto farne? allora per quanto riguarda il NEAT il mio consiglio è quello di stare sui 10.000 passi giornalieri non è un numero troppo difficile da raggiungere io personalmente già per il fatto che porto i cani fuori sto sui 15.000 passi sono impegnativi devono girare molto dobbiamo arrivare fino al parco e devono sfogarsi quindi facciamo un bel giro ogni volta con i cani e vanno portati spesso fuori però sono due Doberman quindi sono giustificato e sicuramente probabilmente nessuno di voi avrà due Doberman in casa però generalmente già portando i cani fuori si raggiunge un buon livello di passi quindi 10.000 passi credo che sia un obiettivo auspicabile un po' per tutti di nuovo non è troppo difficile da raggiungere anche per i più scettici però non deve essere neanche un obbligo in posizione io parto dal presupposto che di nuovo ragazzi io vi dico quello che è meglio per chi vuole ottenere il massimo dei risultati bodybuilding però ognuno ha le proprie priorità ha la propria giornata i propri impegni quindi mi rendo conto che tutto quello soprattutto un video dedicato al cardio non tutti hanno queste possibilità però ci sta vi dico semplicemente quello che reputo in generale migliore quindi stare sui 10.000 passi al giorno 12.000 massimo però anche in questo caso non spingere troppo sull'acceleratore da questo punto di vista non dovete stare tutto il giorno a camminare anche semplicemente per un discorso di tempo ora 10.000 passi al giorno per quanto riguarda il cardio stare sui 90 fino ai 120 minuti settimanali di liss che vuol dire anche semplicemente 6 volte a settimana da lunedì al sabato la mattina vi svegliate e vi fate 20 minuti per esempio di spin bike oppure io come l'ho impostato attualmente perché dopo un po' le gambe iniziano a bruciarmi tanto i quadricipiti si riempiono tanto di sangue vado a fare 15 minuti la mattina tutti i giorni e nei giorni off che sono due a settimana aggiungo un 15 minuti una seconda sessione pomeridiana da 15 minuti quindi ho un totale di 140 minuti settimanali così spalmati recupero bene sto bene quindi è un qualcosa che mi dà una mano bene o male anche a ingranare la giornata e fa parte nel mio caso della morning routine quindi come vedete non è un qualcosa che vi richiede troppo tempo vi svegliate vi prendete un caffè magari ascoltate le notizie e tutto il resto vi mettete un quarto d'ora 20 minuti sulla vostra bike sul vostro tappeto e ascoltate magari un podcast per partire far partire bene la giornata devo fare un video sulla morning routine che secondo me è dannatamente interessante magari lo condivido su The Rise facendovi vedere la mia e già in questo modo avete totalizzato un bel quantitativo di attività in generale il mio consiglio è di non superare comunque 40 minuti in una sola volta e non fare meno di 10 minuti nelle singole sessioni perché sennò diventa troppo dispersivo potete ovviamente inserirlo quando vi pare evitate di farlo prima dell'allenamento al massimo dopo l'allenamento però la cosa ideale è distanziarlo il più possibile dalla vostra seduta in sala pesi ragazzi questo è tutto di nuovo qualsiasi consiglio qualsiasi domanda scrivete qua sotto nei commenti sarò ben lieto di rispondere detto questo ci vediamo al prossimo video